Martedì Sono le ore 12 e 22 e sono ancora a casa Perché sto preparando lo zaino per andare a Napoli Perché a Napoli ci sono i The Jackal Quindi oggi vediamo l'anteprima del film dei The Jackal Io questo film lo aspetto da 120 anni Solita giacchetta delle feste E' arrivato anche Santucci Stiamo andando con la piccolissima macchina a gas di Marco Cioni Noi lo vediamo questa sera Volevi smettere di urlare Il coso del parcheggio E allora Vedete un civico dalla macchina No, ma dei civici non li usano Bruttissimo Effettivamente sono dei falliti Alle due e mezza chiudono Abbiamo lasciato la macchina in questo parcheggio Torneremo a piedi a Roma Non ritroveremo mai più la macchina Zio, è una location spettacolare Ma che cos'è? Qui c'è James Bond che corre Vabbè, facciamo un action al volo E parte il film action Scappa cazzo Abbiamo le scarpe dipillate Vi è piaciuto questo film action Se vi è piaciuto scrivete nei commenti Barba bietola Ah Siamo all'attico Siamo solo noi Che bello E questo è il vostro letto E non si può, capito? Ma è pure oro Come l'avevo chiesto Stanotte zio, te romper Mi sono appena vestito bellissimo Ah, mutande, non riprendere Ricati, sbrigati Mercocioni, pisellino Mercocioni, pisellino Tu madre non dice così Mercocioni, si accade Porca cia Oh, namo, so tre ore che siamo qua Tu sei pronto? Tu sei pronto? Che so pronto? Che cazzo vuoi? Ma a piedere Ma perché le devo piegliare? Io non c'entro Mamma, terra, lo senti che Al volo Sono troppo riantivo Ma, ma, ma Buonasera Buonasera Bella La nostra storia d'amore continua Siamo qui romantici come fogli Sotto la pioggia Siamo arrivati Quante piogge Te salve Ciao, come va? Bene Pazzesco Sto distruggendo Ha fatto la gag Santa Lucia Santo Lucito Da oggi Io lo chiamo Giovanni Santa Lucia Matteo Ciao Ciao E' il colore Ok I popcorn enormi Che finiranno prima Nel inizio del film Io tra l'altro sono contrario ai popcorn al cinema Quando c'è il fine primo tempo e ne ho comprati altri Niente, semplicemente Francesco e pasta Un attimo di ritardo Insomma è bloccato nel traffico Grazie Buonasera Ovviamente non posso farvi vedere il film Ma posso dirvi che cosa ne penso Questa non è una recensione E' solo la mia opinione Mi raccomando Allora la cosa che più mi ha colpito di Addio Fottuti Musi Verdi E' che in 15 minuti si passa da Napoli ad un'astronave E non si fa fatica a crederci E non sto parlando solo degli effetti visivi Che a mio parere tecnicamente sono ottimi Ma sto parlando anche delle scelte di sceneggiatura e di regia Che ti portano dentro la storia E te la fanno sentire reale Senza difficoltà A questo punto la fatidica domanda E' un film perfetto? Ovviamente no Però secondo me è un buon film Che ti fa ridere dall'inizio alla fine Senza dover ricadere in quei soliti schemi della commedia all'italiana Che a un certo punto c'ha anche rotto le palle Quindi per me questi elementi lo rendono un buon film da vedere al cinema Adesso basta che se no mi accollo Torniamo alla follia napoletana Grazie mille a tutti Bravi Bravi Bello, molto bello Andatelo a vedetelo Eh approvo anch'io si 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 Andatelo a vedere Non ve ne pentirete Zio Madonna Bravi Oh ragazzi perché ci vediamo solo adesso? Grazie Grazie mille Madonna Madonna Un incontro pazzesco Che buona cosa lunga e dura Non è il cellulare Era la mia stima per te Sii Adesso come professionisti ci spostiamo al party che hanno organizzato Mazza che illuminazione Una luce pazzesca Riano Santucci fa promozione per il film dei The Jagal anche nel taxi Da dopo domani esce al cinema I primi della festa Quelli che stanno lì con le patatine fanno un po' così col collo Wow Grazie E io non ti ho visto Aaaaaaah Che avrebbe iniziata la corsa E' a bella iniziata la corsa E' a bella iniziata la corsa E' a bella iniziata la corsa Ma che giorno è domani? E passiamo a? Mercoledì Allora non posso fare mercoledì Ma devi dire passiamo a Passiamo a Mercoledì E' iniziato mercoledì E' iniziato mercoledì che poi è uguale a martedì E' mercoledì Quando si ubriaga lo puoi baciare Ed è Mercoledì Che gag Ma sai che figo? In cinemella Quanto cazzo è bella, cioè è fighissimo Sei contento di questa ultima nottata prima che nasca la tua figlia? Non vedo l'ora Adesso il programma è di andare a mangiare una pizza Quanti piani sono che scendiamo? Io ne ho contati almeno 33 Ci portano a mangiare la pizza i The Jackal E' proprio quel momento lì Quel momento che arriva sempre quando sei a Napoli Buon appetito Ciao Grazie ragazzi Vi voglio bene Stiamo facendo i turisti adesso E' il momento di fare del cinemino E' il momento di fare del cinemino Vabbè basta torniamo a Roma Ore 16 e 54 Questa è la nostra macchina Questi siamo noi fermi Perchè la ruota della macchina si è deformata Noi siamo bloccati qui E stiamo decidendo il da farsi Cos'è il da farsi? Potrei provare a chiamare l'area dove siamo appena stati Magari loro hanno carattrezzi, cose Io lo so che poi sono a mano tematico in queste situazioni Però c'è effettivamente un tramonto pazzesco Frammento di cinemino perché ci sta Praticamente una gomma deformata e quindi slitta la macchina Il carattere si può portarci tutti e quattro poi Oppure dobbiamo trovare un altro modo Un uomo finito Un uomo finito Completamente finito Quei mortacci nostri In ogni caso il film dei Jagan ne vale comunque la pena Un'esperienza unica Unica E mo? Sistemato No No, zero sistemato Grazie Grazie Siamo vivi Siamo a Roma Questa giornata è proprio il momento di concluderla Basta Giovedì Oggi è il 9 novembre E questo vuol dire che Auguri Sììììììììììììììììo Ti auguri a Alison Brandi auguri a te Sofia Cos'è successo? Che è arrivato un pacco enorme Quindi apriamolo Posso aprirlo io? Ilerstro delicata È roba 결 Che cosa staCOglierlo Ah Questa cosa scuge No Non mi fai Questo cioccolato serviranno a darvi quella botta di zuccheri in più per fare il cinema Buona giornata, è stata in fissa Grazie Maurizio Maurizio Cosa hai fatto? Abbiamo appena raggiunto il punto massimo Il picco massimo di zuccheri e di felicità della giornata Basta Quindi, oggi è 10 giorni dall'uscita Addio Fottuti Musi Verdi ha registrato circa 66.000 persone in sala Che è un risultato discreto Ma secondo me non basta Questo film sta avendo delle difficoltà ad emergere E io ve lo dico, sto rosicando Perché secondo me, tutti quelli come me e come voi che vedete questi video Dovrebbero stare in fissa con questo genere di film Anche solo per il valore che hanno in questo momento in Italia Questo film è un'occasione per far capire a chi produce contenuti per il cinema Che in Italia si possono produrre contenuti diversi Questa ramanzina in stile papà Non la sto facendo per farvela prendere a male Ma semplicemente perché c'è ancora tempo C'è ancora tempo per andare al cinema a vedere Addio Fottuti Musi Verdi Poi una volta che l'avete visto potete decidere se consigliarlo alle persone Perché una volta che l'avete visto poi sta a voi Io ovviamente non sto qui a dirvi che vi deve piacere per forza il film Anche perché non sono abbastanza grosso da menave tutti quanti Concludiamo questa infinita serie di parole con una domanda Quelli di voi che hanno scelto di non vedere il film al cinema Perché hanno scelto di non vederlo? È una mia pura curiosità Quindi rispondetemi nei commenti Io resto qui e aspetto le risposte Resto veramente qui Cioè stavolta non me ne vado Mai più